Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell'anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Nel corso dell'ultimo appuntamento su canale 5, tuttavia, Silvio ha dichiarato di essere uscito e di sentirsi particolarmente coinvolto dalla dama Donatella, la quale ha messo in dubbio la versione dei fatti raccontata da Gemma, descrivendo Silvio come un uomo galante e romantico. Anche Gianni Sperti si è accodato alle critiche alla dama torinese, facendo notare come spesso esagera la realtà per avere ragione. Ma questa volta l'opinionista è rimasto solo nella sua riflessione. Secondo Tina Cipollari, infatti, non è Gemma il problema ma come il cavaliere si sia posto in modo diverso con le due dame. E anche il pubblico trova che Sperti stesse esagerando nel voler screditare Gemma. Grazie a tutti.